Oggi parleremo di comunicazione. Il comportamento è comunicazione e tutta la comunicazione influenza il comportamento. La comunicazione tra A, B e C risentirà dunque della relazione che intercorre tra di loro e al contenuto del loro scambio si dovranno allora sommare una serie di messaggi non verbali dipendenti dal rapporto che li lega. Ma cosa accadrebbe se l'interazione avvenisse tra due o più individui affetti da una qualche patologia in relazione tra loro? Cosa accadrebbe se i nostri A, B e C avessero ognuno la propria peculiare e preziosissima necrosi e fossero costretti dal rapporto che li lega ad interagire? A, B, E C male, a B e C ma, B , B, E C B, A Sì, sì, dovrei inviarti per questo, lo sai? Scusa ma perché? Beh sarà una questione di colorito forse è l' amuse? Perché? Il viso è più disteso. Qu tanto? Il riso è più... Perché dovresti? Esteso? Io? Cosa? Odiarmi! Perché dovresti odiarmi? Voi la sei! Voi la sua ragazzina! Ti pare che sto facendo la storia? Tocca, tocca, se non mi credi, tocca, tocca, tocca! Oh no! Voleva dire che si trova in forma, ecco la differenza sua, che sei in forma, lei no! Non vedo perché voi per una cosa così dovresti odiarmi. Nessuno odia nessuno, non ha un modo di dire. Un modo di dire. Un modo di dire, di dire. Grazie di modo di dire. Ma però come fanno? Non è sempre stato, va bene qualcosa, era un modo di dire, amore. Ma sì che lo è, non tu lei! Sì? No, questo è mio! È una stellina a te! Vedi però che è rossa, è una stella di mare, credo, perché altrimenti l'avrebbero fatta gialla. Puoi dire? Io ho un po' le po'... E poi i polipi non sono blu. Vino anche a te. Beh, sarà una fiora. Allora, pronta? Ma non le fiori sono le... Non, comunque per farla breve. E allora che cos'è? Non è proprio che ve lo dico, un poco di facile, adesso. Un polipo non è. Vi dominate un po'? Una viola non è. Ma cos'è? No, tanto non l'ho dominata, ve lo dico io, c'è una settimana, però mi sono anche tutto mio. Beh, io lo chiamo polipo per sacrificare. Wow! Hai un po' nessun gadget colorato. Se fossimo dal Tonke... Ti dico di oggi. Oh sì. E vedessimo nero questo polipo blu. Sì! E noi dovremmo stare a scoparci di capire se effettivamente si tratta di un polipo di una piota. No, mi può arrabbiare il fatto che tu dica che mi sto arrabbiando. Sarebbe una piota. Allora, volete così al motivo e come dico io ti stai arrabbiando. Senza dubbio, una piota, nemmeno. Oppure di stare abbastanza calma. E sto solo facendo una domanda. E non ti arrabbiate la venta sulla fronte. Ma no, che non ti prende in giro. Ha ripetuto? Ha ripetuto? Di nuovo? Ora è ripetuto? Ora? Il tesoro non lo faremmo? Ah sì che lo farei. Oh no, perché non lo farei tesoro? Lo stai facendo adesso. Oh no! Ma questi smette! La sarei tonto! Ancora! La sigaretta. Scusate solo, qui non fumo che... Brava! Provenza è responsabile. E' finché non hai fatto tutti i controlli. Il fumo è l'ultima cosa che ti ci vuole con quello di andare. Ma tu lo fumo? Lo so. Perché la fumese tu lo fumo? No, no. Per palazzo. Perché? Perché lei lo fuma. Perché si fuma la vita? Per questo nei luoghi pubblici, nelle metropolitane, nei ristoranti non si può fumare. Si. Anche nel tuo ristorante non si potrà fumare, tu questo lo sai? Si, certo. Perché chi fuma darebbe fastidio a chi non fuma sarebbe un sopruso che lei non ci sono per un motivo, no? La trave, certo, si. E' un cuore con quello? Lei lo chiama poi. Crown baby! Crown baby! Crown baby! I'm welcome back home! Oh, sto bene davvero! Dieni, dai! Vai! Va bene! Anche ora che credi non pensare stai pensando il tuo cervello funziona? Va! Mi dico di no! Io ne credo! No, non lo sai da solo! Io sto tanzandomi quindi! Ma sto pensando anche, è evitabile! Shhh! Uguale! Uguale, preciso, uguale! Uguale! Uguale a quello che fanno le capre miotoniche! Le capre miotoniche! Miotoniche, le capre miotoniche! Ma che dici? Sei atomica? Sì! Scendete giù! È divertente! Che fai? Cos'è giù? Allora, raccontiamo... Uno, due, tre, quattro, cinque... Oh, vieni qui! Io non ho un euro! Zero! Non è vuoto! Puoi stare tranquilla! Ok! Che paura! Ho creduto che tu... Ho creduto che tu... Non ho creduto che tu... No, non ho creduto che tu... Non sarò, non sarò... Non devi scusare! Ma io non mi scuso! Tanti auguri a te... Tanti auguri a te... Tanti auguri felici... Tanti auguri a te... Ho! 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 Fa! Ho sape! Grazie a tutti. Grazie a tutti.